Salve, oggi HIP si va a Pianosa e l'unico obiettivo vero è fare del content È content È content Guarda che mari potente Dopo mezz'ora di aspettanza finalmente è arrivato Io mi ho dormito Wow, guarda che bel content che viene qua È arrivato un branco di Dio Non ci lascia fare le nostre cose, fuck Tommi di marini su Pianosa prima di arrivare Me l'aspettavo più piatta Cosa ti aspetti da Pianosa? Piano Pianosa Guarda che mare Campo da calcio per la Champions Non solo la pesante ovunico No Pianosa Eheheh Che è stato Guarda che content Fammi un commento su questo posto Allora Piano non è Vedi che qui è piano Qui si alza In un posto del genere Con questo solo Con questo tempo Ti avessi posto Dove ho rinforcato In un museo Di morda sull'acqua Museo Qui c'era la war Io dico no Ci hanno detto 10 minuti Poi dobbiamo andare a fare le cose Ma a me che come ne frega Dove scavi dell'acqua Io voglio stare costino Che bella è una spiaggia Proplastica Content Facciamo la compagnia del video? No Facciamo il content Questo Allora Allora Ma poi chi se ne vanno? E come si fa? Loro se ne vanno E noi non ce ne potremmo accorgere C'è un bombo Andiamo ragazzi Andiamo indietro Mettici un dito No Per me La salita Non è con Non ce ne andiamo Insieme al cappello della Farisse No Io non vorrei dire Ma c'è un mare C'è un po' Mettete Cazzo Stava volando un cappellino C'è un cazzo Detente In quel coso Botta di culo Che non è caduto in mare Io fra due giorni Con il raffreddore Che predict di merda Io scenderei giù E se vi dicete Che il prossimo video Sarà ancora più Potente Piccolo spoiler a schermo Sì Cazzo Per ora Possa bastare La vita da youtuber Di me Sempre Costretti In delle stanze A editare Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti.